Oggi vediamo come scollegare una macchina Cricut che non usiamo più, che non abbiamo più, da Design Space. Per prima cosa dobbiamo cliccare sul tasto Start, poi selezioniamo Impostazioni. A questo punto sulla sinistra clicchiamo su Bluetooth e dispositivi, poi su Visualizza altri dispositivi. In questo modo vedremo tutto l'elenco dei dispositivi associati al nostro PC. Scorriamo in basso fino a trovare la macchina o le macchine che non ci interessano più. Clicchiamo sui tre puntini che ci sono in fondo a ogni macchina e poi clicchiamo su Rimuovi. Se per caso abbiamo sbagliato a rimuovere una delle macchine al nostro possesso, non c'è problema, basterà procedere nuovamente all'accoppiamento seguendo la solita procedura di associazione delle macchine.